A CEPLA presenta tutta una gamma nuova di prodotti, abbiamo alle nostre spalle il System 10, che è uno scaffale ultra slim che aumenta sia il livello di portata che il livello di espositivo, perché recuperiamo sia spazio in altezza che in spazio di profondità per la parte della scaffalatura. Presentiamo un nuovo sistema di filo, Ui Plus presenta tutta una serie di componenti di cesti e accessori che sono componibili, è uno scaffale completamente integrabile con lo scaffale in lamiera, quindi si integra con tutti gli altri sistemi di CEPLA. Digital CEP system è un nuovo sistema integrato di illuminazione, è un sistema plug in che permette di giocare con l'illuminazione in diverse tipologie di esposizione, l'esposizione sul fronte con l'illuminazione che va verso l'interno e quindi non illumina solo il sopra dei prodotti le puoi enfatizzare in maniera migliore, facciamo enfatizzare anche il lineare, quindi domani andare a caratterizzare la seconda deficienza del cliente, variare con colori particolari. Questo è il sistema Ui Plus, in una realizzazione un corner sia pane che cantina, con l'applicazione e l'ambientazione di quelli che sono i nostri nuovi sistemi di scattura. Abbiamo una linea di casse che è tutta la classe, abbiamo una cassa completamente modulare e componibile, abbiamo una vasca rettangolare e una vasca semicircolare, diverse tipologie di nastro, poi una diversa modularità, tutta una parte di accessori e di finiture particolari, la cassa risponde alle norme, le più recenti norme di ergonomia sia francese che europee, le norme sulla sicurezza, ha un sistema di sicurezza potenziato, quindi un doppio sistema. Grazie. Grazie. Grazie.